Crescere nella virtù angelica di padre Luca Maria Genovese. La virtù della castità sembra dimenticata nei tempi moderni, una virtù che è surclassata dalla deriva morale e eufemisticamente chiamata conquista della libertà, sostrato di un codice senza regole, senza programmi, in uno spontaneismo assurdo. Anche la castità dunque, che ha un ruolo ben preciso nell'uomo, quello della regolazione, non della negazione dell'istinto sessuale, dovrebbe avere un ruolo fondamentale per l'uomo, dato l'estremo equilibrio e delicatezza, che richiede una tale componente dell'essere umano che il Signore ci ha donato per donare la vita. Sembra che la castità sia virtù angelica e per questo è chiamata così. Gli angeli emanati direttamente da Dio, puri spiriti, non hanno bisogno di riprodursi e quindi sono guidati da volontà e moti spirituali del tutto scevri da componenti sensibili e carnali. Ma la natura angelica non è da sola capace di levarsi al di sopra delle passioni. Lucifero infatti si perse, pur essendo un angelo. Le idee confuse e tenebrose invasero il suo intelletto e lo misero contro Dio. Così succede agli uomini che spesso i gnari del proprio stato si abbandonano ad esse e vengono spinti al male, come gli angeli buoni respinsero la tentazione con l'amore. Casto è colui che scaccia l'eros sensibile con un altro eros spirituale, spegnendo questo fuoco con un fuoco immateriale. Il termine continenza per sé indica una perfezione simile a tutte le virtù. Nessuna sceta, proteso alla virtù della castità, pensi di farlo da sé. Nessuna sceta è scevro dalle tentazioni contro la castità. Esse hanno preso anche gli spiriti più nobili. Infatti la nostra natura è già stata vinta dal male e non può pensare di vincere contro chi ancora la domina. Ci vuole un dono di grazia oltre allo sforzo naturale. La castità è a rischio continuo. Non può dirsi superiore di chi ha già superato le diverse tentazioni. È qualcosa che richiede una continua ascesi, però la vittoria porta ai gradi più alti del contegno della purezza simile a quasi a quella angelica. San Giovanni Climaco, che ovviamente si rivolge agli uomini, denota tre tipi di castità nel cammino di perfezione, in otemporanza ai tre gradi della vita interiore accettata dalla spiritualità cristiana. Nel primo grado la castità controlla gli istinti ma non gli impulsi involontari del corpo e dei pensieri. Nel secondo lo stato che gli chiama mediano è quando vi sono ancora impulsi carnali ma non i pensieri. Nel terzo grado il più perfetto è quello in cui né i pensieri né i moti del corpo turbano l'anima. Tanti sono i mezzi per vincere la sensualità. Consegnateci dalla tradizione. Con la preghiera chi scaccia questo cane è simile a chi combatte con un leone. Dunque il leone è pronto sempre a sbranarci. È la nostra sensualità che nasce dal di dentro. È un vero nemico dell'anima perché senza farsi accorgere aggredisce tutte le facoltà intellettuali, fisiche e morali e non permette all'uomo di muoversi e di progredire nel campo dello spirito. Chi prega è senz'altro più tutelato di chi non prega. Almeno avrà sempre una coscienza vigile ispirata dalla grazia che saprà facilmente riconoscere il male dove si presenta anche sotto forma di bene e avrà senz'altro anche più prudenza nell'agire e nel fare le proprie scelte perché non venga condotto nel baratro. Il frutto della preghiera è la resistenza ma poi c'è anche la pratica fisica della vittoria. Bisogna avvolgere in fuga la tentazione e come? Chi con un contrattacco lo avvolge in fuga somiglia a chi insegue il suo nemico. La tattica del contrattacco è una tecnica militare. Consiste nell'attaccare per primi per non essere attaccati e allora come sono dolorosi e letali gli attacchi della sensualità così dobbiamo essere forti e vigorosi ad attaccare la sensualità prima che essa ci attacchi con tutti gli accorgimenti necessari nel vestire, nel parlare, nel comportarci. Concretamente significa sempre fare atti contrari alla sensualità anche mentalmente e non abbandonarsi a pensieri lascivi ma a pensieri vigorosi di impegno e di virtù e agire di conseguenza. Chi giunge a disprezzare il suo assalto una volta per sempre può dirsi risolto dal sepolcro. Alla risurrezione infatti non si prende né moglie né marito ma si è come angeli nel cielo. Matteo 22 30. La vittoria totale sulle passioni della carne è paragonata dal climaco alla risurrezione dei morti. In effetti non vi è sensualità nei corpi risorti perché i due sessi non devono più sposarsi ma saranno come angeli nel cielo. E' questo l'obiettivo a cui tende la vita religiosa essere con il Signore nei cieli e con i fratelli in un unico vincolo di amore. Ecco un'altra scala di combattimento della sensualità. Chi combatte la sensualità sudando e lavorando è simile a chi lega il proprio nemico nella contesa legandolo con una funicella. Il lavoro e la fatica non sono quindi sufficienti a combattere la sensualità. Chi lo fa seguendo una vita di ascesi e di veglie assomiglia a colui che lega il nemico con una catena. La vita monastica con il suo bagaglio di penitenze e di ascese fondato soprattutto sulle veglie notturne è un ottimo armamentario per legare il nemico che è dentro di noi ma non conduce ancora alla vittoria totale. Chiunque raggiunga modestia e mansuetudine è come uno che ucciso il nemico lo ha seppellito sotto un mucchio di arena. Per arena intendo l'umiltà che non nutre le passioni perché chi la possiede si considera terra e cenere. Dunque questa è la via aurea per ottenere la perfetta castità e la vita angelica la via dell'umiltà della modestia della mansuetudine. Sembrano virtù deboli non adatte a lottare contro un nemico forte sono invece quelle virtù che placano per sempre le passioni perché abitano a dipendere in tutto dal proprio creatore. Come non vedere in questa apoteosi dell'umiltà una definizione della vergine macolata? La vergine delle vergini, vergine per eccellenza ecco lei che per sempre ha vinto e seppellito le passioni umane. Solo la grazia di Dio può vivere in lei per cui è piena di grazia e ridonda questa sua pienezza a tutti quelli che come lei si vogliono impegnare nella battaglia contro il male e contro il peccato. La castità è una virtù mariana e solo mariana. Non si può pensare di essere casti senza l'aiuto e l'esempio costante della vergine maria. La perfezione della vita religiosa è nella vergine maria. Solo in lei infatti i consacrati imparano a lasciare il mondo, la carne, la propria consolazione ed il peccato. Così anche il matrimonio veramente tale, cioè casto, fedele e indissolubile, trova la sua consolazione e la sua grandezza nel cuore dell'immacolata che può dare agli sposi la delicatezza e insieme la forza dell'amore che si dona e non chiede nulla in cambio. Un amore spirituale e non sensuale per quanto è possibile alla sfera umana corrotta. Beati gli eunuchi. Ma per San Giovanni Climaco non sono gli eunuchi naturali che beneficiano di questa virtù, ma sì quelli che giorno per giorno si sforzano con gli aiuti della grazia, quindi della vergine macolata, di non cadere nelle trame del senso. Dico beati coloro che giorno per giorno si rendono eunuchi in quanto operano una specie di circoncisione spirituale con la spada dei casti pensieri. Chi vuol lottare contro la sua carne, con le sue sole forze, corre in vano. Offri al Signore la debolezza della natura, riconoscendo completamente la tua incapacità e senza che tu te ne accorga riceverai la grazia della continenza.